Giovedì 8 luglio un camion carico di legname è andato in fiamma all'incrocio con il sovrappasso di San Didero. La statale 25 del Moncenisio è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Chiuso anche il sovrappasso, sul posto stanno operando le forze dell'ordine, i carabinieri e i vigili del fuoco. L'intervento è in corso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, buongiorno. Allora, c'è sulla statale 25 l'entrata lì della Ceria, sul cavalcavia. Ha preso fuoco un camion. Sì, sì. E lì dove c'è l'entrata per andare...